Come amministrazione abbiamo deciso di aderire alla proposta della città metropolitana di Torino e quindi di istituire un'antenna Europa nel nostro comune per cercare di avvicinare i cittadini di Foglizzo all'istituzione europea. Il comune di Foglizzo è un piccolo comune della provincia di Torino che apparentemente ha poco a che fare con un'istituzione grossa come l'Unione Europea, però la vita di tutti i cittadini ormai è sempre più condizionata da scelte globali e opportunità globali perlomeno a livello europeo e quindi era giusto da parte nostra dare uno strumento ai cittadini, uno strumento che sicuramente negli anni si potrà evolvere e dare delle opportunità man mano maggiori, però ci sembrava giusto sfruttare questa opportunità della città metropolitana e avviare un percorso per avvicinare i cittadini di Foglizzo all'Europa.